E che dire ragazzi, questo doveva essere la prima super cover super figa della nuova rubrica Sting by Smule Però Youtube ha deciso che andava bene, soltanto 1 minuto e 23 me l'avevo tagliata Quindi io sapete cosa faccio? Mi faccio il video promo, vi rimetto esattamente 1 minuto e 23 Così come Youtube ha deciso che andava bene la partecipazione alle entrate Così magari loro me lo fanno salire di visual un giorno molto lontano E vi annuncio ufficialmente l'apertura della rubrica mensile Sting by Smule Che prima o poi spero conterrà qualche mia cover La prossima cover che mi taglia non ve la pubblico E ovviamente a questo punto la prima cover arriverà a settembre Buona spezzone Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti